La decisione del governatore Vincenzo De Luca di chiudere le scuole in Campania non è stata digerita bene dai dirigenti scolastici, docenti e dalle famiglie. E' in queste ultime ore partita online una petizione popolare. Immediata ripresa in presenza delle lezioni scolastiche in Campania, chiedono a gran voce i dirigenti scolastici, docenti e genitori. Chiediamo che il ministro dell'istruzione, si legge nella petizione, intervenga contro l'ordinanza della regione Campania, che ha disposto alla chiusura delle scuole primarie e secondarie fino al 30 ottobre 2020. Chiediamo che tutti gli studenti e studentesse della regione Campania ritornino, con decorrenza immediata, a poter usufruire della didattica in presenza, nel rispetto dei protocolli sanitari nazionali vigenti. La Campania non può e non deve restare il fanalino di coda in un settore chiave come l'istruzione.